di lavorare per lì per un anno e di diventare un fantasma e però quindi io volevo sapere come sarebbe andato a finire visto che per me il tema centrale era il rapporto tra questo padre e figlio quale sarebbe stata la reazione quindi lo sforzo maggiore è stato quello più difficile nella chiusura del film di ridare spinta al film e difatti per fortuna abbiamo avuto quel contrasto tra quella scena notturna che chiude bene un sentimento con questo abbraccio, con Rosaria che dice delle parole vere, delle parole sincere in questa penombra e quella scena mattutina con quella musica che è incongruamente allegra, cacciarona dove pare che tutto sia ripartito come doveva ripartire e invece cosa succede? Manca il bambino più piccolo però da un punto di vista del racconto, per tornare alla domanda che mi hai fatto è stato effettivamente un momento piuttosto delicato perché bisogna riagguantare immediatamente l'emozione dello spettatore che in qualche modo vedendo la morte di Eduardo, il seppellimento ha avuto un susseguirsi di scene piuttosto tese e quindi c'è il rischio di un calo della tensione nonostante questo è stato l'unico modo che abbiamo trovato per raccontare tutta la storia però c'è una persona che è stata all'Avid con noi per tanti mesi durante il film sa che è stato un bel problema da risolvere vorrei fare una domanda più tecnico cinematografica come mai un giovane regista che ha fatto il centro sperimentale che quindi è cresciuto e si è formato in una scuola dove sono formati tra i più grandi direttori della fotografia ma non solo italiani ma mondiali va a fare il suo film più importante diciamo con un direttore della fotografia di scuola ungherese? è vero che in Italia noi abbiamo dei grandissimi direttori della fotografia è altrettanto vero però che, lo saprai, esistono degli incontri che sono degli incontri formidabili e appunto io di Gergeri Poarnock, questo è il nome della direttore della fotografia avevo visto solo uno showreel, ovvero un estratto di alcuni suoi lavori con dei pezzettini avevo visto l'ultima scena proprio del film Nuovo Mondo, quella dell'arte che mi era piaciuta moltissimo, questo chiaramente non ti fa prendere una decisione così delicata però ero rimasto molto incuriosito e tra i tanti direttori della fotografia che ho voluto incontrare c'era anche lui ed è stato con un innamoramento perché immediatamente ho avuto la sensazione che lui volesse fare lo stesso film che avesse la sensibilità giusta e soprattutto si è creata, ed è molto rischiosa questa cosa una confidenza prima lavorativa e dopo anche umana in brevissimo tempo molte volte mi è capitato che questi grandi innamoramenti fossero dei fuochi di paglia vale sia per il lavoro che per la vita privata e invece in questo caso ho trovato una persona che mi ha anche protetto perché tenevo moltissimo a questo film, avevo molta meno esperienza di lui e lui è stato molto lucido nell'aiutarmi nei momenti in cui non dico non avessi le idee chiare perché credo di aver sempre saputo quale film volevo fare ma anche nel trovare, quando magari c'era poco tempo quando non si avevano le condizioni ottimali delle soluzioni che corrispondessero al gusto e alla bontà del film per cui diciamo che è successo come quando si spiega un tradimento ad una moglie è successo, o a un marito ovviamente buonasera, vorrei fare complimenti del film, molto bello io sono chiusito dal casting invece dalla scelta degli attori l'attore di Servino si conosce è un regista teatrale, è un attore fantastico ma mi sono piaciuti tantissimo i due attori maschini Diego e Edoardo, soprattutto Diego voglio sapere un po' dove li ha trovati e che percorsi condizionali hanno perché sono stati veramente molte volte quando uno vede un film dice vabbè il film è bello perché sono bravi gli attori oppure viceversa è talmente bello la sceneggiatura che gli attori non potrebbero fare un lutto film in questo caso qua adesso mi sono affermato sulla parola dei due attori e soprattutto di Diego nelle scene in cui recita insieme Antonio Servino diciamo che da un punto di vista pratico li ho trovati a teatro perché sono tutti attori di formazione teatrale sia i due ragazzi che Maurizio Donadoni che è l'aiuto cuoco Claudio per quale io avevo fatto il mio cortometraggio di diploma quando ero a scuola e anche le stesse attrici tedesche Marco D'Amore il figlio di Tony Servillo nel film ha fatto la Paolo Grassi a Milano quindi un attore estremamente strutturato ha fatto anche la trilogia della villeggiatura proprio con Servillo ed è la sua prima esperienza al cinema mentre Francesco Di Leva che diciamo ha avuto un percorso sempre teatrale ma senza passare diciamo per le suone aveva fatto anche qualche piccola esperienza al cinema dopo da un punto di vista concreto della scelta mi sono detto che assolutamente per un rispetto nei confronti della verità che doveva venire fuori dello sterno e della lingua che doveva essere parlata che è molto importante nel film questi due attori avrebbero dovuto essere degli attori campani tanto più che addirittura Francesco Di Leva è stato scelto a cast chiuso praticamente lui era via perché stava facendo un altro lavoro ma ha insistito io lo conoscevo con la direttrice del casting per venire a fare un provino anche se noi avevamo già deciso ed è arrivato quel giorno abbiamo detto vabbè facciamolo comunque è arrivato quel giorno io gli davo le battute e lui si è presentato ha fatto proprio la scena in cui appoggia le mani sul tavolo e dice io lo so chi sei tu io sono rimasto folgorato perché aveva una verità dentro di sé e un talento, una bravura un'aderenza alla parte che erano non solo giuste dal punto di vista della recitazione ma anche proprio della fisiologica perché proprio aveva un viso che non mi colpiva molto aveva questo fisico che per me è come quello un po' di una pantera a riposo cioè pronta a scattare è stato anche per quello ad esempio che ad un certo punto mentre riflettevo su come mentre in scena a certe scene ho detto ma forse è il caso che visto questo fisico che ha visto anche questa scioltezza che stia torsonudo in alcuni casi perché aiuta ancora di più era proprio l'attore giusto per quella parte questo è stato proprio l'interno buonasera allora visti tutti gli interventi positivi il film è piaciuto anche a me molto perché la storia è molto intensa e effettivamente ti inchioda l'attenzione sul film sempre per tutto il tempo è come uno dei migliori film di azione di suspense però volevo visto che stavo leggendo qua sull'acusco alcuni interventi alcune recensioni di critici cinematografici non capisco perché oppure appare il suo se mi può spiegare magari non ce l'ha parlato perché in alcuni qui si dice che sarebbe un gran bel film ma rimane il sapore di un film a metà oppure Mancuso dice che se si può perdonare un finale un po' confuso ma perché dobbiamo scomodare Mancuso? no perché da visto chiaramente il gusto è soggettivo effettivamente è appunto il film è molto bello non capisco perché si parla di un film a metà ho una questione generale sul rapporto con la crisi ma come succede per tutti i film non c'è stato un plebiscito adesso tu hai citato una recensione negativa che ci può stare ce ne sono state altre tante di buone ben vengano aiutano a crescere non so cosa risponderti è usciuta una buona anche su positiva questa che c'è nel Celsimano a Bobbio ecco visto che molte dei vostri interventi riguardano il fatto che il film ti tiene seduto che ti tiene destra l'attenzione ti incazza sembrerebbe un film in cui diciamo il plot che ti cattura sia diciamo una linea centrale che è quella pragmatica che è quella dell'obiettivo e quindi una cosa che parliamo oggi con i libri del laboratorio della città era proprio che al di là di questa dorsale tutti vogliamo sapere come la domanda drammaturgia classica è Dan e poi ma è molto importante il fatto che il film completi il proprio universo narrativo cioè ci sono dei personaggi secondari che potrebbero semplicemente viaggiare lungo questa dorsale dell'obiettivo principale per esempio l'esecuzione che c'è nel film il personaggio di Edoardo potrebbe essere funzionale semplicemente a questa dorsale qua e invece voi i sceneggiatori vi create una relazione questo apparentemente può dare alla sceneggiatura un andamento digressivo mentre mi è importantissimo perché crea un vero personaggio perché solo un vero personaggio può avere una relazione di esempi di questo tipo nel tuo film ce ne sono tanti allora in questo senso forse per incalzare lo spettatore non basta un diciamo un plot da action movie o anche da drama come può essere un rapporto dalle film ma bisogna completare tutto il quadro e tutto appunto l'universo e il mondo narrativo come si gestisce un quadro così complesso quali sono i percorsi e le scelte che si possono fare lungo questa strada qua ma parto dal presupposto che appunto tutti i personaggi concorrono e devono concorrere al bene del film quindi perché loro lo possano fare noi scienziatori per primi dobbiamo trattarli con cura e questa è la seconda volta che cito appunto protagonista o meno all'interno della scena loro lottano per dire da loro per essere presenti per poter esprimere tutto il loro mondo e tutto il loro potenziale almeno tutto quello che tu gli hai dato e cercando di non essere dispersivi nel raccontare sia i due ragazzi che la moglie che anche è